E' molto importante quello che abbiamo il martedì e il venerdì qui su Radio Parma e questa mattina parliamo dell'approccio educativo, integrazione e socializzazione. Abbiamo al telefono la dottoressa Finestrella. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. E ci siamo, un'altra puntata di Radio GioCampus. La dottoressa Finestrella, psicologa ad indirizzo integrato, specialista dell'infanzia, dell'adolescenza e membro del comitato scientifico GioCampus. Ospite in diretta questa mattina, una diretta telefonica e quindi cerchiamo di stringere i tempi perché lei è davvero molto impegnata. Dunque, è vero, si sa... Ma molto volentieri partecipo alla trasmissione. Ci credo, anche perché davvero è un momento gioioso, bellissimo. Quando poi sappiamo che davanti a noi c'è il nostro futuro, siamo ancora più felici e contenti di poter far crescere questi giovani ragazzi nel migliore dei modi. Dottoressa Finestrella, a GioCampus si trasmettono messaggi educativi attraverso il gioco. Ma come devono agire gli istruttori affinché questo avvenga? Ci dia qualche dritta. Va bene. Allora, l'aspetto principale è che il gioco è per i bambini il principale veicolo di relazione col mondo e di sviluppo e conoscenza di se stessi e degli altri. GioCampus fa proprio questo concetto che è il cardine della strategia educativa, che quindi è centrata sul bambino e sulle sue caratteristiche. Per cui gli istruttori è importante che tengano conto appunto di quali sono le caratteristiche del bambino e una cosa che fanno sempre gli istruttori di GioCampus è da subito, dal primo momento, mettersi in una relazione positiva col bambino, ad esempio chiarendo in maniera molto calda e empatica qual è il proprio ruolo e quali sono le caratteristiche di GioCampus estate. Appena arriva il bambino si sente immediatamente accolto e questo è molto importante perché poi si divertirà e potrà imparare, fare esperienze educative ancora migliori se appunto è stato bene accolto dall'istruttore. Un altro esempio può essere quello di usare una modalità comunicativa che sia molto chiara, molto diretta e fare in modo anche che il bambino senta che non si stanno dando semplicemente delle istruzioni rispetto ad esempio a un gioco, un'attività, uno sport che il bambino sta provando ma che è l'istruttore il primo a credere in quello che fa. Sappiamo bene infatti che i bambini seguono molto la comunicazione non verbale cioè quello che noi esprimiamo non attraverso le parole ma attraverso i nostri comportamenti. Magari anche attraverso un'espressione a volte. Esatto, le espressioni del viso, del corpo, i gesti. I bambini si sintonizzano moltissimo su questi aspetti quindi tenerne conto e sapere che si è un punto di riferimento, un esempio proprio pratico per i bambini aiuterà poi l'istruttore a veicolare i messaggi educativi di Geocampus e a far sì che il bambino sia il primo a divertirsi sperimentando tutte le attività che vengono proposte. Quindi direi sicuramente ecco questo aspetto di attenzione alla comunicazione e alla relazione tra bambini e tra bambino istruttore. In effetti è importante che gli istruttori siano preparati da questo punto di vista. Abbiamo parlato nelle puntate scorse anche delle qualifiche di questi istruttori che partecipano a Geocampus, non sono così persone prese per la strada che improvvisano. Non c'è niente di improvvisato, ma poi quali sono altri aspetti da tenere in considerazione quando si insegna giocando? Abbiamo parlato anche del modo di porsi ai bambini. Che cosa c'è di importante ancora? La formazione è molto importante perché gli istruttori, come giustamente diceva, non sono semplicemente delle figure esperte nella loro disciplina sportiva o nell'attività che propongono ai bambini. Sono delle figure che sono state proprio formate attentamente anche proprio sugli aspetti relazionali e motivi che i bambini ovviamente portano a Geocampus. Per cui un'attenzione particolare che gli istruttori tengono è l'attenzione alla fascia d'età. A Geocampus sappiamo che ci sono tantissimi bambini di fasce d'età molto diverse ed è importante però sapere che non sono tutti uguali dal punto di vista dello sviluppo affettivo, sociale e gli istruttori sono formati proprio su questo. Quindi sanno relazionarsi ai bambini a seconda dell'età che hanno e sanno quindi capire le esigenze e proporre le attività adatte a quella specifica fascia d'età. E credo che tra l'altro un punto di forza di Geocampus estate sia proprio l'omogeneità dei gruppi per cui i bambini di un gruppo sono più o meno tutti della stessa fascia d'età e questo facilita sia l'interazione col gruppo e anche con l'istruttore. Altri aspetti sono ad esempio quelli di facilitare e incoraggiare l'autostima del bambino. Attraverso il gioco e lo sport il bambino impara anche a costruirsi un'immagine di sé. Quindi gli istruttori incoraggiano sempre i piccoli e non criticano quindi hanno un atteggiamento molto caldo e molto positivo nelle attività che fanno i bambini a Geocampus. E in effetti dal punto di vista della trasmissione dei messaggi proprio educativi ci sono degli aspetti davvero molto importanti. Abbiamo parlato dell'approccio educativo, dell'integrazione, della socializzazione. Quest'anno poi all'interno di Geocampus abbiamo parlato anche del diabete perché ci sono anche ragazzini che hanno questo problema. Un diabete che non implica rimanere chiuso a casa e quindi anche socializzare con gli altri, vivere con gli altri e far sì che anche questi ragazzini possano vivere un'estate tranquilla, spensierata e all'insegna del grande divertimento. Quindi socializzare anche con chi ha dei problemi anche fisici che devono essere superati. È importante anche questo direi. È un aspetto fondamentale, veramente importante garantire e dare un'opportunità. In questo credo che Geocampus dia un grande messaggio, dare l'opportunità a tutti i bambini di ogni provenienza e appunto con disabilità o meno, con problematiche o meno, di poter interagire in un ambiente sereno, tranquillo, in cui il bambino si sente garantito e sicuro perché ci sono degli adulti che si prendono cura di lui, ma che può interagire serenamente e divertirsi stando con gli altri. Quindi la socializzazione e l'integrazione sono veramente importantissimi. Geocampus appunto dà questa opportunità a tutti, dà anche proprio l'opportunità di svilupparsi. Sono settimane in cui si cresce proprio, non è semplicemente un luogo dove si passa del tempo, ma in cui si fanno delle esperienze di crescita e queste esperienze passano attraverso la condivisione con gli altri bambini, attraverso l'interazione appunto con gli adulti. In questo spazio il campus che offre veramente un'opportunità illimitata di fare esperienze sportive di ogni tipo. Quindi la socializzazione è fondamentale, anche appunto l'integrazione, l'integrazione con gli altri, ma sono aspetti che favoriscono, migliorano proprio la qualità della vita dei bambini. E' vero, e poi magari un figlio unico che a 5 anni è abituato, o magari anche a 13 anni è abituato a confrontarsi soltanto con i genitori e a pochi amici nell'ambito scolastico. O magari con i videogiochi e la tv al massimo. In effetti, invece qua ci sono bambini di tutta l'età, a partire dai 5 anni, fino ai 13 anni. Giocampus è un grande punto d'incontro e un modo anche per capire che non siamo soltanto noi che esistiamo sulla faccia della terra, ma ci sono tanti esseri come noi che in qualche modo hanno un pensiero. Quindi com'è più facile, difficile, è più facile forse mettersi in contatto con gli altri, socializzare proprio in questi campi estivi? E' assolutamente sì, io penso che sia veramente un'esperienza privilegiata, perché è un contesto diverso dalla famiglia, ma anche dalla scuola. Quindi è un luogo dove il bambino può sentirsi accolto, ma non si sente impegnato nel dover fare qualche cosa, e può permettersi di sperimentare cose che magari nella quotidianità non può fare, nella quotidianità normale, diciamo, dell'ambiente magari scolastico. E queste esperienze di socializzazione davvero fanno sì che il bambino, anche appunto figli unici o bambini che non hanno molti contatti con altri bambini, possano uscire più facilmente da un isolamento e entrare a contatto non solo con altri bambini, come dicevo, ma anche con messaggi educativi importanti e quindi il rispetto di se stessi, degli altri, dell'ambiente. Geocampus dà messaggi molto precisi anche sul rispetto dell'ambiente. I bambini si sentono impegnati in prima persona positivamente anche in questo. Quindi, diciamo, una vera palestra di vita. In poche settimane dà l'opportunità al bambino di sviluppare proprio se stesso in relazione con gli altri. Perfetto, dottoressa Finistrelli, io la ringrazio davvero tanto di essere stata qua con noi. Le auguro un buon lavoro e magari prossimamente avremo modo pure di risentirci. Me lo auguro davvero perché è davvero molto bello parlare con lei. Grazie, grazie mille, buona estate e a tutti i bambini che partecipano a Geocampus un augurio di buona estate anche a loro e alle loro famiglie. Grazie, arrivederci, buona giornata. Grazie, arrivederci.